Per me l'oratorio è come una seconda casa e ho passato molto tempo, sin dall'infanzia, per vari motivi, non so, durante l'anno, per il catechismo, oppure per la CR di cui tuttora faccio parte, oppure d'estate per i vari mini crest, crest, oppure i vari laboratori che l'oratorio organizza. Anche tuttora, spesso e volentieri, sono qui per un motivo o per un altro. È un luogo che contiene, potremmo dire, la sua piccola comunità di persone che sono sempre disponibili nel momento del bisogno. Mi ha permesso di conoscere molte persone, compreso anche le mie migliori amiche. Siamo fortunati noi di Lino perché abbiamo un oratorio con molti luoghi a disposizione dove passare il tempo, per esempio il bar sempre fornito e con il personale molto cordiale, oppure come i campi da calcio, da basket o da pallavolo, che permettono di svagarsi con gli amici, e perfino il campo giochi, in cui i genitori possono portare i figli, appunto, per passare un pomeriggio insieme. Inoltre, l'oratorio offre molte attività, a cui spesso partecipo sin da quando ero bambina, per esempio d'estate, come ho già detto, il mini-Grest, per poi passare al Grest, gli laboratori di cucito-pittura, oppure per noi un po' più grandi i vari campi scuola e anche gli esercizi spirituali. Siamo fortunati e, appunto, queste attività possono esistere grazie alla presenza del don e di persone che sono sempre disponibili a organizzare e a spendere del tempo ad organizzare, appunto, queste attività e quindi sono grata a loro e sono anche forse stata fortunata di essere, appunto, cresciuta in un oratorio come quello di Lino.